Le esigenze alimentari e di prima necessità sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite senza bisogno di esibire alcuna certificazione verde. Per tutto il resto, sigarette, libri e giornali compresi servirà il Green Pass base e anche per andare a ritirare la pensione alle poste. È saltata infatti l'attesa d'eroga per consentire in questo caso l'accesso agli uffici postali e nelle banche, dove dal 1 febbraio, così come per finanziari e tutti gli uffici pubblici, sarà necessario avere almeno un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 se rapido. Il Premier Mario Draghi ha firmato il nuovo DPCM che prevede in quali attività commerciali non servirà né il Green Pass rafforzato né quello base. Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi a dettaglio di alimenti e bevande, dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto. Negoti di commercio al dettaglio di surgelati, negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali, di carburante per autotrazione e esercizi specializzati, di articoli igienico-sanitari, di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie, di articoli medicinali e ortopedici in esercizi specializzati, di materiale per l'ottica, di combustibile per uso domestico e per riscaldamento. Il DPCM regolamenta anche l'accesso alle strutture sanitarie, sociosanitarie e veterinarie, in cui è sempre consentito l'accesso senza Green Pass per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura anche per gli accompagnatori. Consentito senza certificazione l'accesso agli uffici aperti al pubblico e alle forze di polizia, per assicurare lo svolgimento dell'attività istituzionale indifferibile di prevenzione e repressione degli illeciti. Lo stesso vale per gli uffici giudiziari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori, di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine per cui è necessaria la presenza della persona convocata.